Presentazione stamane in comune ad Arco della nuova manifestazione messa in campo dal Consorzio dei Commercianti del Centro Storico. Arco Zen, la città del benessere, il suo titolo, ed offre agli ospiti una serie di percorsi e ambienti adatti alla meditazione, al rilassamento e alla distensione psicofisica, mettendo il benessere come filo conduttore naturale negli eventi che saranno messi in campo dal 12 al 14 maggio. Bruno Nunelli, presidente di Assocentro, ce ne spiega il significato. Un nuovo appuntamento culturale per Arco, Arco Zen, di cosa si tratta? Sì, come Assocentro abbiamo messo in campo una nuova manifestazione per presentare Arco in maniera diversa. Arco normalmente viene così affrontata dai nostri turisti con un ambito prettamente sportivo. Noi vogliamo accoglierli anche sotto un'altra forma, come città del benessere. Ecco, Arco Zen vuole rappresentare la nostra qualità come una località dove il benessere lo fa un attimino da padrone. Perciò nel momento in cui hanno un po' di relax dopo le attività sportive, ecco che noi abbiamo tutta una serie di zone, di posti, di località, dove si può poi tranquillamente usufruire del benessere che la nostra cittadina offre già dai tempi degli Esburgo. E quindi una serie di appuntamenti che si articolano in che modo? Allora, noi avremo diverse zone dove metteremo in campo alcune manifestazioni che riguardano sempre un po' la filosofia Zen, ma anche, ripeto, di luoghi del benessere. Possiamo iniziare con delle passeggiate Kneipp che le faremo nella zona della Molletta, a lungo il Sarca e nel Prato Antistante. Poi avremo delle meditazioni con musica d'arrivo, dal vivo. Poi, naturalmente, anche un percorso del benessere dove metteremo delle formelle con delle citazioni, di frasi, di personaggi importanti che faranno riflettere sui temi dell'amicizia, dell'amore, della speranza. Cioè, tutto è un momento di riflessione per quanto riguarda, appunto, un po' il benessere psicofisico della persona. Avremo poi il saluto al sole, l'abbraccio alla luna che lo faremo al Prato della Lizza. Poi, naturalmente, tutto quello che riguarda il mondo giapponese, insomma, filosofia Zen, tutte quelle manifestazioni che vengono dal mondo orientale. Avremo anche una tenda iurta, dove all'interno anche lì ci saranno delle manifestazioni, il suono del gong, insomma, diverse cose che pongono arco al centro come città del benessere.